Buongiorno a tutti, ringrazio la dottoressa Ambrosini e tutti i presenti, ringrazio gli organizzatori di questo momento così prezioso di confronto e di scambio. Io non ho una presentazione visiva, non ho una presentazione powerpoint, ma ho voluto evitare di inondarvi con dati che più o meno già si conoscono sul bando che si è appena chiuso e sui vincitori e invece preferisco condividere con voi alcune considerazioni o meglio articolare l'intervento su due fronti, da un lato quello del racconto di quello che sta succedendo in questa fase per quanto riguarda l'intero investimento 2.3 del PNRR e poi aggiungere a questo alcune considerazioni rispetto a ciò che già può essere oggetto di una prima valutazione, quindi a cominciare dall'esito del bando da 190 milioni di euro. Solo una nota introduttiva, visto che ho questo doppio appellativo nel programma, è una nota che non riguarda evidentemente me, ma faccio volentieri perché mi consente di dire una cosa. L'associazione Parchi e Giardini d'Italia della quale sono coordinatore da anni è impegnata sul tema del verde, del verde storico in particolare, quindi diciamo con un ambito di appartenenza più legato alla filiera dei beni culturali, al mondo dei beni culturali e in parte ha raccolto l'eredità di conoscenze, di dibattito, di studi che era dell'ufficio studi che era presente presso il Ministero della Cultura che ancora era molto attivo negli anni 90 fino ai primi anni 2000 e che poi ha visto progressivamente scemare il proprio attivismo, la propria attività e questo lo dico perché questo non solo il bando per il restauro e la valorizzazione ma l'intera misura 2.3 ha alle spalle anni di sensibilizzazione, di raccolta, di scambio di informazioni tra tutti gli addetti ai lavori che siano del mondo accademico o del mondo delle professioni ed è importante che una misura nasca con una visione non improvvisata, che sia sedimentata nel tempo e che abbia attorno una rete di rapporti e di apporti che in qualche modo le consentono di mantenere uno sguardo complesso, articolato sulla realtà. ALES è invece una società in house del Ministero della Cultura che offre supporto al Ministero stesso su tutta una serie di fronti, ad esempio la società che gestisce l'Arbonus e che è uno dei soci fondatori di Apgi e sottolineo questo aspetto per dire che il PNRR ha richiesto allo stesso Ministero un enorme sforzo organizzativo e rispetto a questo ALES dà tutto il proprio supporto e apporto seguendo la misura. Perché il PNRR diciamo ci pone da subito di fronte a un problema che è quello della realizzazione degli obiettivi. Dunque senza una visione forte e senza una capacità di accompagnare i processi nel loro svolgimento è più difficile raggiungere in modo corretto e appropriato gli obiettivi. I soldi alla fine ci sono, si sono trovati, il bando si è fatto ma poi portare a compimento i processi sicuramente non è agevole. Quali sono le misure in campo? Lo sapete chiaramente già molto bene, ci sono 300 milioni di euro e tutto l'investimento 2.3 diviso essenzialmente su tre fronti, restauro e valorizzazione, censimento e formazione e già questa articolazione dà la misura di quanto alla base ci fosse un'idea, una visione organica e integrata, non bisogna soltanto restaurare, bisogna anche valorizzare, quindi portare a conoscenza del pubblico e in qualche modo radicare nell'immaginario questi beni, farne conoscere l'importanza. Bisogna anche censirli perché ora al di là dei pochi fortunati vincitori c'è un mondo che va in qualche modo fatto a fiorare, messo a sistema, conosciuto nella sua consistenza, nella sua qualità, nella sua diffusione territoriale. Quindi la conoscenza come base essenziale per conferire efficacia a tutte le attività successive di tutela e di valorizzazione. E poi c'è un terzo elemento fondamentale che riguarda la formazione, servono figure professionali adeguate. Questo è un dibattito, adesso mi viene spontaneo guardare Anna Letizia Monti che poi mi succederà. Insomma, in certi contesti tra il mondo AIAP, i florovivaisti e così via, si è parlato tantissimo dell'importanza della formazione professionale, la figura di giardiniere d'arte sulla quale torno tra poco, fino a poco tempo fa, insisteva solo in tre regioni come qualifica riconosciuta, Piemonte, Campania e Sicilia, ora attraverso questa azione del PNRR diventerà sempre più diffusa su scala nazionale. Ovviamente, lo dico subito, non è l'unica figura necessaria, ne servirebbero certamente molte di più. Dunque, entro nel merito dei singoli punti che ho toccato, cioè restauro e valorizzazione, censimento e formazione. Parto dal censimento, lo faccio molto velocemente, ma insomma credo sarà una sorpresa apprendere quanti giardini storici abbiamo nel nostro paese. Il problema è che i dati sono frammentari, non sono sempre confrontabili tra loro, non sempre sono attendibili, perché abbiamo ad esempio elenchi di giardini vincolati, uno risale agli anni 90, un altro è stato fatto stilare dalla DG ABAP del Ministero in vista del bando PNRR, perché il bando prevedeva che solo i giardini vincolati, cioè del quale fosse stato dichiarato in modo manifesto un interesse culturale e potessero partecipare. Ebbene, sono degli elenchi di giardini in cui c'è scritto casa con giardino, palazzo con giardino, ma quando poi si andrà a verificare di che giardini si tratta, potremmo accorgerci che il giardino non c'è più, immaginate vincoli messi negli anni 30, 40, 50, o che il giardino è semplicemente un fazzolettino verde, un'area di rispetto attorno a un edificio storico, quindi dovremo sicuramente porci il tema del perimetro del censimento, dove arrivare e dove no, dovremo capire anche che tipo di evidenze eventualmente dare al perduto, perché chiaramente il Ministero censisce quel che c'è, ma sappiamo bene quanto abbiamo perduto in tutti i contesti a livello nazionale, adesso mi viene in mente qui in Emilia Romagna, forse le terre farnesiane stanno meglio dei domini estensi, dove il perduto probabilmente ha una consistenza maggiore, anche questo magari non entrerà nel censimento, ma potrà essere la base di studi e di successive campagne di ripristino. Ci sono tutta una serie di temi che si apriranno e che sicuramente sarà interessante monitorare e tenere bene in evidenza. Quindi il lavoro che si sta facendo in questo momento è una raccolta di tutte le informazioni presenti sul territorio relativamente ai parchi e giardini, cosa è stato censito, da chi con quali modalità e non solo cosa è stato censito, ma cosa è stato oggetto anche di studi a livello accademico, perché studi magari approfonditi, autorevoli, su sistemi di ville e giardini, che siano in Lucchesia, nel Piemonte Sabaudo, in area Veneta, sono una fonte non meno importante di informazioni sulla storia del territorio e sulla presenza di giardini. Quindi tutto questo per evitare che chi comincia di qui a poco ad occuparsi del censimento, insomma, non cominci da zero, perché poi spesso quello che succede nel nostro paese è che ad ogni giro si ricomincia da capo. È vero che questo fatto di ricominciare da capo alle volte è imposto dalle circostanze, perché cambiano le esigenze, cambia lo sguardo sui beni culturali. Pensate se prevale nell'approccio la visione e lo sguardo della conoscenza rispetto a quello della valorizzazione, già cambia un po' l'oggetto e il modo di trattare il censimento, cambiano gli strumenti catalografici. Noi abbiamo delle schede che sono essenzialmente, ora non voglio dire di tipo ottocentesco, ma sicuramente sono un po' rigidine e su questo lo stesso ICCD, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, sta lavorando a un'idea di aggiornamento del SIGEC Web e lo sta facendo nel contesto molto più ampio dei processi di digitalizzazione, che pure sono finanziati nell'ambito del PNRR. Quindi questa fase preliminare che stiamo seguendo e rispetto alla quale l'Associazione Parchi e Giardini con tutta la rete dei referenti sta dando un apporto di conoscenza, serve proprio a capire qual è lo stato dell'arte, quali sono gli strumenti ottimali per procedere, cosa è stato fatto e si sta lavorando anche sul lessico dei giardini per un aggiornamento del tesaurus, in modo tale che anche la complessità del mondo giardino possa trovare riscontro, possa diventare intanto uno strumento a disposizione dei catalogatori, ma poi possa restare come un'acquisizione scientifica anche per gli anni a venire. Quindi questo per ora è lo stato dell'arte sul tema censimento, sicuramente nel giro di un mesetto avremo già un po' i primi risultati di questa fase preliminare, dopodiché sarà opportuno individuare coloro che potranno occuparsi del censimento, ora la titolarità della misura è una titolarità mic, quindi sarà il segretariato generale a decidere le modalità e gli strumenti, ma certamente credo sarà importante guardare a chi questo lavoro sul territorio lo ha già fatto, lo porta avanti, sa già come muoversi e ha le competenze necessarie a proseguire in questa opera di conoscenza del territorio. Dunque questo per quanto riguarda il censimento. Piccola cosa, noi abbiamo fatto fare due ricognizioni interne al Ministero attraverso la DG ABAP, nella prima abbiamo chiesto tutti i vincoli che riguardano i parchi e giardini a livello nazionale, ovviamente non abbiamo tutte le province, perché alcuni non hanno risposto, poi come sapete c'è un po' di differenza, regioni a statuto speciale, province autonome, la Sicilia che è un mondo a sé sotto molti aspetti, e la seconda ricognizione riguarda invece la documentazione cartacea presente negli archivi delle varie sovrintendenze. È arrivato qualcosa, cioè un primo resoconto di quello che c'è e anche qui c'è una situazione molto, come dire, che presenta tantissime disparità, quindi abbiamo di fronte a una situazione come quella della Toscana in cui molto si è fatto, abbiamo contezza di tante schede IPG, non solo di schede IPG ma di materiale cartaceo che accompagna le schede, quindi mappe catastali, diciamo planimetrie botaniche, foto d'epoca e così via, quindi evidentemente si pone anche un problema di digitalizzazione di questo materiale, non solo di compilazione della nuova scheda, e altre regioni o altre province, perché poi tutto avviene nell'ambito delle sovrintendenze, che non hanno mandato nulla o quasi, o che hanno ancora gli archivi non accessibili, perché nella riorganizzazione delle sovrintendenze gli archivi sono rimasti da un'altra parte, quindi non hanno accesso. Questo per dirvi che si sta facendo un lavoro molto faticoso, che sarà necessariamente frammentario nell'esito, non esaustivo, ma sarà comunque una base di partenza utile. Sul piano della formazione, l'enfasi che pone il PNRR è sui giardinieri d'arte, quindi su una figura in qualche modo nuova, ma necessaria, perché voi sapete, insomma, la formazione delle professioni del verde è quanto di più articolato e complesso, è qualcosa di competenza regionale, come il grosso della formazione professionale. C'è una figura regolamentata a livello nazionale, che è quella di manutentore del verde, che prevede però un livello formativo tutto sommato basico, con un corso che non va oltre le 180 ore. Lavorando sull'esperienza di queste tre regioni, Sicilia, Campania e Piemonte, voi sapete, ad esempio, che alla Venaria Reale si fanno da anni corsi per giardiniere d'arte, altri si fanno in ambito campano, utilizzando anche come sede per gli stage luoghi di grande prestigio, la Venaria Reale in Piemonte, Caserta, la Reggia e il Real Bosco di Capodimonte in ambito campano, utilizzando la loro esperienza si è pervenuti faticosamente alla individuazione di un profilo condiviso a livello, potrei dire nazionale, ma non è corretto, nel senso condiviso da coloro che hanno preso parte al tavolo, quindi i vari responsabili della formazione e su questo profilo articolato in tre unità di competenze, che prevede 600 ore, il 40% delle quali in stage, ecco, sulla base di questo profilo si partirà con la formazione. Anche qui le cose da fare non sono poche, perché le regioni devono non solo sottoscrivere l'accordo col Ministero, ma fare i bandi, individuare i soggetti erogatori, strutturare il corso, perché tre unità di competenza non vuol dire l'elenco con gli orari, i docenti e le materie, quindi c'è un lavoro supplementare da fare, individuare i partner, perché la convenzione obbliga a individuare dei partner in un contesto storico, quindi MIC pubblico, demaniale o anche privato, giardini storici dove realizzare le ore di stage, i laboratori, le visite, obbliga a coinvolgere soggetti anche attivi nel mondo dell'impresa, quindi dalla filiera floroviguaistica, le aziende che hanno l'OS24, insomma, per mettere già in contatto coloro che vengono formati con il mondo del lavoro e quindi c'è un lavoro non da poco da fare e ci sono, voi sapete, c'è un target piuttosto ambizioso in termini numerici che è stato stabilito dal Ministero, quindi questo l'abbiamo, come dire, recepito telquel senza nulla, nulla poter dire, di 1260 persone formate di qui al 2024. È una cifra piuttosto ambiziosa, però pensate, i progetti presentati per il PNRR Bando Restauri sono più di mille. Il mondo delle imprese, sappiamo, ci dice che ha bisogno di personale qualificato nel momento in cui queste figure venissero richieste nei bandi, per esempio, con cui si poi cercano le aziende che dovranno occuparsi della manutenzione pluriennale di parchi e giardini, sicuramente io credo non ci saranno problemi da parte del mercato ad assorbire persone formate. Dopodiché è evidente che servirebbero anche dei capi giardiniere, servirebbero delle persone capaci di gestire dei team e delle squadre di lavoro. Serve anche lavorare sull'aspetto curatoriale, perché i parchi e giardini storici hanno bisogno, evidentemente, di non solo una capacità di organizzare la manutenzione, ordinaria, straordinaria, i relativi calendari, ma anche di immaginare una didattica, una valorizzazione che siano mirate e che siano costruite su un bene diverso da tutti gli altri. E per fare tutto questo c'è sicuramente bisogno di altre figure, dunque anche su questo si sta parallelamente lavorando. Venendo invece alla parte più consistente della dotazione finanziaria, quello che non vi ho detto perché in qualche modo lo davo per scontato, è che dei 300 milioni complessivi, 10 sono per formazione e censimento, non sono pochissimi, ma non sono nemmeno una gran citra, perché la formazione li mangia, come dire, con grande facilità. Gli altri 290 sono riservati al restauro e alla valorizzazione. Di questi 290, 100 li ha tenuti, per così dire, il Ministero e sono stati in buona parte, anche se non integralmente, attribuiti a 5 siti, 5 grandi attrattori o potenziali grandi attrattori, 3 dei quali sono nel meridione, anzi in Campania, la reggia di Caserta, il Real Bosco di Campodimonte e la villa favorita di Ercolano, che forse è il luogo in assoluto meno conosciuto, ma era la più celebre, la più ampia delle ville che erano affacciate sul miglio d'oro, quello che scaturiva dalla reggia di Portici e che si sviluppava appunto parallelamente alla costa, tra il Vesuvio e la costa, e che versa in condizioni, come dire, conservative e deplorevoli, quantomeno una parte, l'altra è stata già oggetto di un primo intervento di restauro da tempo ed è in parte diciamo curata dall'ente Ville Vesuviane. Gli altri due finanziati sono Villa Lante a Bagnaia nel Lazio, quindi uno dei più celebri esempi di Giardino del Cinquecento e Villa Pisani a Stra in Veneto. Questo per quanto riguarda la parte direttamente finanziata dal Ministero, gli altri siti ministeriali hanno invece concorso, come tutti gli altri, al bando che vedeva a disposizione 190 milioni di euro. Lo dicevo prima, 1082 sono stati i progetti presentati e qui mi sembra opportuno sottolineare come primo elemento di commento la grande partecipazione. Non voglio dire in attesa, però sicuramente il lavoro anche di comunicazione che si è fatto, il lavoro anche semplicemente attraverso il passaparola, la rete, poi i webinar, le sessioni informative, è stato sicuramente determinante rispetto ad altre misure in cui, come dire, si è stati costretti a prorogare i termini per assenza di progetti o assenza di interesse da parte del pubblico. Questo dei Giardini non ha avuto alcun problema da questo punto di vista e ha riservato anche delle sorprese, a cominciare tutto sommato dall'Emilia Romagna che in quantità per numero di progetti presentati sono più di 100, è la quarta regione come numero di progetti, ma che è una regione relativamente piccola come le Marche, ne ha presentati tantissimi, segno che sul territorio c'è vitalità, c'è capacità progettuale, c'è attenzione a questo tema e a questo interesse e a questo ambito che è quello dei Giardini Storici e questo sicuramente prelude ad una stagione importante. Purtroppo i Giardini premiati sono molto pochi rispetto al totale, ma sono molto pochi anche perché la media di quello che è stato richiesto dai progetti è elevata, si aggira attorno al milione e tre, quindi oltre un certo numero sarebbe stato impossibile premiarne. La Commissione presieduta da Alberta Campitelli ha fatto un lavoro come dire enorme anche perché i tempi erano davvero ristretti, i progetti di fatto non erano a disposizioni, ma semplicemente l'ha legato a Celeberrimo che era una descrizione del progetto con tutta una serie di materiale che poteva essere inserito dentro, però quello che si può dire è esposta a bando concluso, io credo che sia questo. Intanto mi sembra interessante sottolineare che c'è una bella distribuzione territoriale, di fatto tutte le regioni che hanno partecipato hanno visto premiato almeno un progetto, con chiaramente una disparità perché è evidente che dove, come in Veneto e in Toscana, c'è una tradizione non solo di giardini storici ma di cura, di attenzione da parte del mondo accademico, da parte del mondo delle imprese e via dicendo, chiaramente c'è un numero anche di premiati e di premiati eccellenti forse un po' più elevato. Un altro elemento che mi sembra interessante sottolineare è che pubblico e privato hanno potuto partecipare sullo stesso piano e questo mi sembra un elemento di grande interesse. Pensate che solo l'Associazione di More Storiche, con la quale so che siete in rapporto qui in Emilia Romagna, ha più di 4.000 associati. Di questi, molti sono palazzi urbani, sono case torri, sono vecchi mulini o chissà cosa, ma sono una parte rilevante, sono grandi ville sparse sul territorio con giardini storici rilevantissimi e il fatto che i privati abbiano avuto accesso ad una misura di questo tipo credo che sia un elemento che vada sottolineato. Sicuramente i privati hanno la maturità e la capacità di concorrere non solo al restauro, ma poi alla gestione in un'ottica di interesse pubblico, quindi aggiungendo valore ai territori sui quali insistono, anche perché poi, lo dico con una battuta di questo campano, nel senso che molto spesso è successo che nei comuni, cambiata l'amministrazione comunale e fatta l'inaugurazione del Bel Giardino, poi tutto sia andato in malora. I privati, che invece hanno investito su più fronti, perché magari investono anche sull'ospitalità, investono su altri elementi, tendenzialmente assicurano anche. La cosa che è interessante è che i privati sono stati obbligati a firmare una convenzione con la quale si obbligheranno ad aprire, se hanno chiesto il 100% del finanziamento, per almeno 120 giorni l'anno e questo ha prodotto in molte regioni una moltiplicazione dei possibili attrattori, dei possibili siti turistici, adesso senza entrare nel merito delle mie Romagna, visto che siamo qui, ma giusto per fare un esempio come quello della regione Marche, che mi sembrava però interessante, lì sono stati premiati sette giardini, di questi quattro sono in comuni sotto i 10.000 abitanti, quindi costituiscono alle volte l'attrattore principale insieme alla villa cui sono collegati e quattro sono nuovi, nel senso che apriranno al pubblico per la prima volta, perché fino ad oggi o erano chiusi o erano scarsamente visitabili, se non in occasioni, non so come la giornata del Fai, ma una volta ogni tre o quattro anni, avere costantemente aperti e in rete con il territorio, con l'offerta del territorio, molti più siti, sicuramente avrà un suo impatto anche sulle dinamiche del turismo. Pensate a questo proposito, un giardino come Ninfa, beh Ninfa è una gloria non solo nazionale ma europea, però hanno fatto una indagine tra i propri visitatori e hanno appurato che due terzi dei visitatori si sono spinti in provincia di Latina, dove altrimenti mai sarebbero andati solo grazie a Ninfa. Immaginate il fatto che nel Lazio Meridionale è stato premiato un sito come Torrecchia Vecchia, che è un sito ad oggi scarsamente accessibile, ma che invece diventerà regolarmente aperto al pubblico, che sarà una sorta di seconda Ninfa. Quindi immaginate l'impatto su un territorio di luoghi di questo spessore per quella che è l'economia locale. Nelle Marche due dei progetti premiati sono a Pesaro, dove esiste un terzo giardino, l'Imperiale, che è uno dei giardini più interessanti del nostro Cinquecento con un'architettura straordinaria e questo farà di Pesaro un piccolo polo giardiniero. Nessuno mai fino ad oggi sarebbe andato a Pesaro per giardini, forse men che meno per i giardini, per le ville storiche, ma c'è invece una tradizione storico, artistica, roveresca di grandissimo rilievo, di grandissima importanza. Quindi questi piccoli esempi che ho fatto relativamente soprattutto alla regione Marche, ma tanto per fare una sorta di così piccolo caso studio, allontanandomi un po' dalle sensibilità locali, però mi sembra indicativo del potenziale che in termini di valorizzazione, di rivitalizzazione dei territori questa misura ha e potrà avere. Cito solo altri due aspetti che mi piace sottolineare, il tema degli orti botanici, visto che c'è qui una rappresentanza modenese, non sono stati tantissimi i progetti degli orti botanici, eppure c'è stato un numero abbastanza alto di premiati e siccome non c'era in questo una determinazione da parte della Commissione, questo è il segno che non solo c'è una grande capacità progettuale, ma c'è secondo me anche una bella opportunità per portare all'attenzione del grande pubblico. Questa realtà degli orti botanici, perché poi l'Italia, ma pochi lo sanno, ne ha in un numero elevatissimo, superiore a tutti gli altri paesi europei. Poi ci sono gli orti di più recente Costituzione, quelli universitari recenti, quindi non Pisa o Padova, ma quelli alpini e via dicendo. Quindi questo era il primo elemento. E l'altro elemento che mi piace sottolineare è il tema del giardino produttivo. La componente produttiva del giardino, che è sempre stata presente nei giardini storici, è stata presente fortemente anche nei progetti. Quindi chi ha potuto insieme ai parterpi o meno arabescati, più o meno all'italiana, alla francese o quello che sia, ha tenuto conto dei pomari, inserendoli poi, per quanto riguarda il capitolo valorizzazione, in progetti di didattica, legati anche quindi al recupero delle antiche cultivar, delle antiche varietà. E questo è sicuramente un'attenzione nuova che sicuramente ha già un riscontro nella sensibilità contemporanea e che credo sarà giusto coltivare. Alcuni di questi giardini hanno addirittura nella componente produttiva l'elemento prevalente e potrebbero addirittura innescare un processo di recupero e rivitalizzazione economica di interi microterritori che magari sono vocati a questa o a quella produzione. Quindi questo per darvi un po' l'idea di quello che emerge dalla lettura dei risultati. E volendo invece entrare nel merito di quelli che erano i cinque ambiti nei quali si articolava il bando, quindi la componente vegetale, disegno del giardino, restauro, scultorio architettonico, impiantistica, sicurezza, accessibilità e valorizzazione, mi sento di sottolineare giusto tre o quattro cose perché non voglio appesantire troppo l'intervento ma per dare degli input che possono poi essere eventualmente raccolti anche dagli altri relatori. Mi sembra che su alcuni temi come quello della sostenibilità, come quello della messa in sicurezza del giardino rispetto al grande tema del cambiamento climatico che stiamo vivendo, c'è una maturità e una sensibilità già abbastanza diffuse. Il tema acqua era centrale per esempio in tutti i giardini ed è molto interessante che quasi tutte le soluzioni erano un mix di antico e di contemporaneo perché i giardini dovevano necessariamente nascere come luoghi sostenibili nel Cinquecento, nel Seicento, non c'erano grandi pompe elettriche per distribuire acqua, non c'erano, quindi quasi tutti i progetti hanno previsto il ripristino di tutti quei sistemi di cattura, conservazione e distribuzione delle acque, spesso anche semplicemente per caduta e non necessariamente attraverso l'ausilio di pompe e li hanno poi coniugati con sistemi più moderni di irrigazione a goccia, quindi a basso consumo idrico, li hanno associati alla scelta di piante dallo scarso fabbisogno idrico, in qualche modo hanno davvero manifestato una grande attenzione rispetto a questo tema e è qualcosa di molto molto diffuso sul piano progettuale. Anche il tema del rapporto col territorio, del fare rete, è qualcosa che è ormai entrato un po' nella cultura di tutti, quindi una valorizzazione che non si limita al bene inteso così come una sorta di monade avulsa da ogni contesto, ma il tema delle reti territoriali è un tema molto forte, su quale tra l'altro la stessa associazione Parchi e Giardini ha lavorato facendo nascere il progetto di Garden Route che adesso andrà rilanciato anche nell'ottica e alla luce di quello che è successo con il PNRR. Mentre qualche punto debole io lo vedo, in parte nella valorizzazione c'è molto digitale, come chiedeva lo stesso Bando, come è nello spirito del PNRR, ma secondo me la sfida poi sarà capire quali contenuti ci finiscono in questo digitale e immaginare un racconto del giardino che abbia veramente il giardino, la sua anima, le sue caratteristiche come vero protagonista. Io adesso faccio una sorta di battuta un po' peironiana, cioè penso a Paolo Peirone che molti di voi conoscono come grande architetto dei giardini, con una sensibilità. Nei progetti c'era molta realtà immersiva, non in tutti, però voglio dire, beh insomma alla fine è il giardino stesso ad essere una realtà immersiva, con i suoi suoni, con il mormorio delle acque, con il cinguettio, con i profumi, con le sollecitazioni tattili e sensoriali e forse ad un pubblico iper digitalizzato e urbanizzato è già sufficiente proporre quella realtà immersiva e come dire un po' di understatement può essere utile in questo senso. Però è anche vero che una parte invece della digitalizzazione nei progetti, e questo mi sembra importante sottolinearlo, riguardava il censimento arborio, le modalità di gestione poi delle manutenzioni e quindi questo è un tema invece estremamente interessante che è emerso dai progetti. L'ultima nota, e chiudo anche se è una nota per così dire dolente, è il tema dei piano di gestione. Il bando prevedeva 15 punti per i piani di gestione perché l'idea era chiedere ai proponenti anche una garanzia rispetto alla durabilità dell'investimento che veniva fatto, perché sapete tutti meglio di me quanto il giardino sia un bene deperibile e quanto sia sufficiente una stagione siccitosa come quella che abbiamo vissuto quest'estate per vederlo scomparire. Sui piani di gestione c'è a mio avviso molta confusione, persino su cosa sia un piano di gestione, se va bene un business plan, ma già immaginare o descrivere le professionalità coinvolte, un'idea di calendario manutentivo, una distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, l'idea di gestire consapevolmente e con strumenti professionali un giardino, soprattutto quando si tratta appunto non di un giardinetto di casa, ma un giardino storico rilevante, questo a mio avviso non è ancora cultura diffusa e su questo sicuramente bisognerà lavorare nei prossimi anni, molto insieme chiaramente a tutti gli altri temi che sono emersi. Io mi fermerei qui perché mi sembra diciamo che le riflessioni siano già molte, aggiungo una nota invece più pratica su tutti i dubbi e i patemi che stanno vivendo, invece i poveri vincitori, dico i poveri vincitori perché voi sapete che solo i tempi sono piuttosto serrati perché entro gennaio bisogna aprire i cantieri, molti non sono arrivati ancora alla progettazione esecutiva, ci sono autorizzazioni delle sovrintendenze ancora in arrivo, ma poi ci sono modalità di rendicontazione anche molto, come dire, cavillose, stringenti, non facili da gestire. Il MEF ha pubblicato delle linee guida relativamente alla piattaforma Regis sulla quale andrà fatta la rendicontazione, il CDP, Casa Depositi e Prestiti ha partorito un nuovo portale che si chiama Capacity Italy, se non ricordo male, che sarà una sorta di piattaforma attraverso la quale verranno gestite anche le FAQ in tutto il processo di attuazione delle misure del PNRR, quindi serve un po' di pazienza, ma piano piano si stanno approntando gli strumenti che consentiranno un, stavo per dire agevole, ma non mi sbilancio a tal punto, svolgimento di tutte le attività dei prossimi anni. Grazie.